Ciao, sono Carlotta Caminiti e ti do il benvenuto in questo secondo video dedicato al parto nella cavalla dove parleremo in particolare, nello specifico, proprio del momento del parto, cioè il momento in cui il puledrino viene al mondo. Allora, il parto nella cavalla, abbiamo visto che la cavalla dovrebbe stare in un box riparato, pulito, ampio, con un'abbondante paglia come lettiera, ma questo l'abbiamo visto nel video precedente, e poi che è importante osservare discretamente la cavalla, cioè guardarla possibilmente senza essere visti, perché se disturbiamo troppo la cavalla, lei potrebbe anche decidere di partorire nell'unico momento in cui non la guardate, questo perché? Perché il cavallo è un animale predato in natura, per cui tende sempre a guardarsi le spalle e tutte le cose, tutte le cose che fa, che comportano il fatto di non essere proprio, di non poter stare allerta come partorire, le fa velocemente e quando si sente al massimo della tranquillità. Quindi se non si sente tranquilla è molto difficile che partorisca. Questo lo dovete sempre tenere in considerazione, cioè non potete continuare a andare lì, guardarla, accendere la luce, disturbarla, perché questo non andrebbe bene. Il parto nella cavalla è un evento piuttosto veloce, si suddivide però in tre fasi diverse, come nella donna. Il travaglio, che è la fase precedente alla fase espulsiva, insomma alla fase del parto, il parto stesso, e quindi la fase in cui la cavalla con delle contrazioni fa impegnare il puledro nel canale del parto e poi lo partorisce. E il secondamento, che è la parte importantissima, in cui viene proprio eliminata completamente la placenta. Ma vediamo in particolare, il travaglio è la prima fase, abbiamo visto in questa fase la cavalla manifesta dei dolori collici alternati ai momenti di tranquillità. Lo vedete, la cavalla è agitata, un po' mangia, un po' non mangia, continua a girare, continua a guardarsi in giro, alza la coda. Questi sono tutti segni che è iniziato il travaglio. Però questa fase è una fase che può durare anche qualche ora, ma in cui la fattrice può ancora bloccare tutto il processo se viene disturbata. Per questo, come vi dicevo, non dovete disturbarla troppo. Poi, quando finisce il travaglio, inizia proprio il parto vero e proprio, quando si rompono le acque. A un certo punto si rompono le acque e cominciano le contrazioni di cui vi parlavo prima. La cavalla esercita vigorose contrazioni addominali che consentono al puledo di impegnarsi nel canale del parto. A questo punto la cavalla non potrà più fermare le contrazioni. Cioè, una volta che si sono rotte le acque e che questo processo è cominciato, neanche se viene disturbata, può fare a meno di partorire. Per questo motivo è importantissimo aiutarla senza essere troppo invadenti, mi raccomando. Ed è fondamentale che, dal momento in cui, appunto, si rompono le acque, al momento in cui la cavalla comincia a spingere, dovete tenere d'occhio l'orologio, perché questa è una fase molto veloce. Come vi dicevo, le cavalle partoriscono molto velocemente. E quindi, nel giro di 15-20 minuti, al massimo, il puledro deve nascere. Se passa troppo tempo, superato questo tempo, vi dovete cominciare a moscare. Cioè, nel senso, se c'è qualcosa che non va, se la cavalla spinge, spinge, non sono ancora arrivati i piedi, mettete dentro una mano, non sentite niente, mi raccomando, chiamate velocemente il veterinario, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il puledro, normalmente, quando tutto va bene, si deve presentare all'esterno della vulva, con le due zampine anteriori, protese, una davanti all'altra, e successivamente alle due zampine arriva la testa, arriva prima il naso, poi il resto della testa. Se questa presentazione non c'è, se non arrivano i piedi, non arriva la testa, vuol dire che c'è una malposizione del puledro, quindi una distocia. Qui, nella foto, vi ho messo un'equip chirurgica che si sta facendo in quattro per preparare una fattrice, probabilmente con una distocia, a un taglio cesario. E dietro vedete un veterinario che, intanto che loro stanno preparando la cavalla per la chirurgia, sta provando a riposizionare il puledro, vedere se riescono magari a tirarlo fuori senza operare. Questo può capitare. Però comunque, in ogni caso, in caso di distocia, o riuscite in qualche modo a rimettere in posizione il puledro, se non avete alcuna esperienza, non potete farcela da soli, dovete comunque chiamare il veterinario. E se la distocia è molto grave, dovete portare la cavalla in clinica. È molto facile che il puledro muoia, ma dovete assolutamente salvare la vita della cavalla. Normalmente, quando va tutto bene, tra le zampe, come vedete qua, le due zampine, compare la testa, anche lei avvolta dalla stessa membrana, anche questa membrana bianca, che dovete rompere per liberare il naso al puledro il più velocemente possibile e dargli la possibilità di respirare appena, comunque appena viene al mondo. Se invece della membrana bianca vedete questa palla rossa, vuol dire che sta uscendo prima la placenta del puledro, ed è una cosa gravissima. È un distacco placentale prematuro, significa che il puledro è da tanto tempo che non riceve ossigeno e quindi, molto facilmente, dopo la nascita, avrà dei grossi problemi. Per cui, mi raccomando, se vedete questo, dovete cercare chiaramente di liberare il puledro il più velocemente possibile dalla placenta, che essendo molto spessa si fa fatica a romperla. E comunque dovete chiamare il veterinario e monitorare molto bene il puledro nelle ore successive al parto, alla nascita, perché non è detto che i segni appunto di questa ipossia che può subentrare si vedano subito, ma si possono vedere anche dopo diverse ore dal parto. Ma che cosa possiamo fare concretamente per aiutare la cavalla durante il parto? Adesso qua vi ho messo un video di noi che assistiamo una cavalla durante il parto. Ecco, qua vedete che la cavalla comincia a spingere, ha delle contrazioni. Ecco, quando ha le contrazioni così, state attenti perché con le gambe dietro chiaramente non si controlla molto bene, per cui potrebbe anche darvi una botta, per cui state sempre molto attenti. A questo punto vedete che io sto tirando la zampina, stanno uscendo le due zampine, è un puledro molto grosso. Le due zampine, vi dico, arrivano sempre una sfalzata rispetto all'altra, tra le due zampine arriva la testa. In questo caso vedete che ho rotto la membrana bianca, non so se si vede bene, vedete che la spingo indietro, dietro la testa del puledro, in maniera tale da liberare il naso. Il mio collaboratore, gli sto dicendo, non prenderlo sopra il nodello, ma sotto il nodello. Vedete, ecco, i piedini andrebbero presi a livello del pastorale, sotto il nodello. Vedete che sta venendo la testa, pian pianino. Il movimento di trazione è leggero e va fatto solo quando la cavalla spinge. Ecco, vedete, il momento in cui passano le spalle per la cavalla è il momento più difficile, perché le spalle sono la parte più larga del puledro. In questo caso, appunto, bisogna sollevare la testa, perché la testa tende a incuniarsi verso il terreno, andare proprio verso la lettiera e non va bene. Ecco, adesso il puledro sta nascendo, perché le ultime spinte sono quelle fondamentali. Adesso è nato. Anche qui, state attenti, perché con movimenti un po' incorsulti tra mamma e puledro si possono tirare delle testate tra di loro e anche a voi, per cui state sempre molto attenti. Ecco, in questo momento qui, poi, il puledro rimarrà lì qualche minuto. E la cavalla, comunque, dovrebbe riprendere velocemente, a stare decentemente, insomma. Ecco, questo è un... avete visto un parto, avete visto, vi siete resi conto di quanto è veloce. Cioè, non ho velocizzato la cosa. Cioè, da rispetto a quando spuntano i piedini, a quando il puledro viene al mondo, è veramente molto, molto veloce. Ci saranno dei casi in cui è più lento, dei casi in cui è più veloce, è difficile che sia più veloce di così, però, insomma, può essere. Però, mi raccomando, tenete sempre l'orologio a portata di mano e controllate sempre il tempo. Perché la verità è che quando siete a fare queste cose non vi rendete conto quando il tempo passa. Può passare un minuto, dieci minuti, un quarto d'ora, voi non vi siete resi conto. Per cui, l'orologio è fondamentale. Quindi, cosa si può fare nella fase espulsiva per aiutare la cavalla? Allora, l'importante è liberare le zampe e il naso del puledro dalla membrana bianca che li avvolge, e questo l'avete visto. Afferrare il neonato appena sopra gli zoccoli, quindi a livello del pastorale, esercitare trazione verso il basso solo quando la cavalla spinge. Quando il puledro è finalmente nato, madre e figlio rimangono lì, qualche minuto tranquilli a riposare o sdraiati uno accanto all'altro. Come vi dicevo, il cordone ombelicale in questa fase può tranquillamente rimanere attaccato, e più rimane attaccato, meglio è. Si romperà poi, quando il puledro comincerà a agitarsi o la mamma si alzerà, insomma, questo coso. In questa fase qui, la cavalla fa conoscenza con il suo puledro per riconoscerne l'odore e da quel momento lo perciperà sempre come suo figlio e lo proteggerà da tutto e da tutti a scapito della sua stessa vita. Per cui questa qui, questa fase iniziale, quando è nato il puledro, la mamma lo annusa, lo lecca e così è la fase più importante appunto del rapporto che si instaura poi tra i due. Ed è una fase in cui non bisogna assolutamente disturbare troppo, insomma, bisogna lasciargli il tempo di conoscersi e di stare molto tranquilli. Il secondamento, come vi dicevo, è la fase in cui si ha il completo distacco della placenta dall'utero della cavalla. Quando la cavalla si alza molto spesso, vedete appunto come in questa foto, la placenta che pende e che addirittura arriva fino a terra e chiaramente tende a sporcarsi, non va bene perché comunque i batteri e lo sporco possono essere molto dannosi per l'utero della cavalla. Quindi la placenta poi in genere impiega da qualche minuto a qualche ora per staccarsi completamente. E io cosa faccio? Io per favorire l'espulsione della placenta la rendo, cerco di renderla un po' più pesante, cioè cerco di creare, prima di tutto di staccarla dal terreno, cioè di non fare che si strusci e la cavalla se la porta in giro, se la pesti, finisca nella cacca, insomma, cerco di sollevarla, di renderla più pesante. Come faccio? Allora, prima di tutto fascio subito la coda con la vetrap, con una fascia, insomma. Indosso poi i guanti, con i guanti annodo la placenta su se stessa e la inserisco in un sacchetto di plastica, quei sacchetti di plastica quelli del supermercato, basta che sia pulito e dentro il sacchetto ci infilo un sasso di medie dimensioni. Cosa vuol dire di medie dimensioni? Vuol dire una misura che può essere quella di un pompelmo, cioè un sasso immenso, insomma, una misura contenuta, cioè non un peso enorme, è un peso, però il fatto che quando tu annodi la placenta, comunque la sola crea un peso e soprattutto se la concentri all'interno del sacchetto è un ulteriore peso. Poi per aumentare un pochino il peso, un pochino, cioè adesso non stiamo parlando di fargliela venire giù e mi raccomando la placenta non dovete mai staccarla con le mani, mai, deve venire giù da sola, quindi si crea un peso abbastanza fisiologico che consente alla placenta pian pianino di staccarsi. Poi i manici del sacchetto li annodo proprio in alto in alto, possibilità della vulva, cioè li leggo proprio alla placenta, in modo tale che sacchetto, placenta e sasso diventino una cosa sola. Cosa succede? Pian pianino la placenta tende a scendere, via via che scende, cioè io stacco i manici del sacchetto, li riporto verso l'alto, li rilego vicino alla vulva in maniera di tale che abbia sempre questo peso vicino alla vulva. In questo modo vi assicuro che la placenta tende a staccarsi in maniera fisiologica, cioè non è una cosa cruenta e nel giro di poco comunque viene giù e si stacca completamente. E poi se la placenta però non viene espulsa dentro due ore dal parto si ha quella che si chiama ritenzione placentale ed è una patologia grave, per questo dovete chiamare il veterinario che comunque intervenga per fare in modo che la placenta venga liberata, venga rilasciata, perché altrimenti si possono avere delle infezioni uterine serie che possono veramente compromettere la capacità riproduttiva della cavalla, soprattutto per l'anno in corso, delle intossicazioni generali che possono poi comportare l'alaminite, che l'alaminite da parto purtroppo è una patologia grave che succede spesso, soprattutto in cavalli che non vengono viste partorire, che fanno ritenzione di placenta, per cui l'alaminite, che è questa appunto questa patologia dei piedi molto seria nei cavalli, può veramente essere una conseguenza di un parto e di una ritenzione di placenta, per cui mi raccomando se la cavalla non fa la placenta, non libera la placenta dentro due ore dal parto cominciate a preoccuparvi e chiamate il veterinario. Spero di avervi detto tutto, spero di essere stata esaustiva e comunque ci vediamo nel prossimo video dove parleremo dei primi momenti di vita del puledro e che cosa appunto bisogna fare con il puledro appena nato. Io vi saluto e vi consiglio di scaricare, se avete un iPhone, questa applicazione che si chiama Safe Fall, che è un'applicazione che ho fatto l'anno scorso, due anni fa mi sembra, appunto per gestire i primi momenti di vita del puledro, per capire se il puledro è sano oppure no, sia in inglese che in italiano, per cui va bene per tutti. Grazie mille, ciao e ci vediamo nel prossimo video.